Dopo Palazzo Lascaris e le altre sedi del Consiglio regionale, anche nella biblioteca della Regione Piemonte è possibile collegarsi liberamente al Wi-Fi. L'accesso alla rete, aperto a tutti, è disponibile senza necessità di registrazione, semplicemente selezionando con il proprio notebook, tablet o smartphone, Wi-Fi la rete per tutti e accettando le condizioni d'uso. L'attivazione del Wi-Fi rappresenta un passo avanti nella direzione di garantire a tutti i cittadini l'accesso alle informazioni, compito fondamentale delle biblioteche pubbliche.